Il soggetto dell'argomento della lezione è la qualità dell'amicizia. E la grande amicizia è la qualità dell'amicizia è la qualità dell'amicizia è la qualità dell'amicizia tra Balarama e Khrushchev. Laxman e Ram, Nittai e Gor, sono i modelli di amicizia. Loro sono i modelli della amicizia, i più alti modelli della amicizia. Però si può dire anche molto più. Sono molto felice di essere qui con il nostro Sagnasi Italiano Radanti Marati. Quindi hanno lavorato insieme a Florida, New York, Mexico e altri posti. Ma insieme in Italia non siamo mai stati tanto insieme in Italia. E quindi abbiamo un grande piacere che lui sia con noi. Per dare un po' di speranza agli italiani. Perché anche loro possono diventare i Sagnasi. Non devono. Non è necessario. Possono essere anche bravissimi Gryastasi. Brahmachari o quello che gli pare. Però il Sagnasi dà un grande entusiasmo al mondo. Perché mostra al mondo che c'è qualcosa di più elevato che l'amore di questo mondo. L'amore di questo mondo che è motivato dall'egoismo, dalla lussuria e da un sacco di altri problemi. E' un'impegno con il Supremo. Però vivere senza famiglia è anche molto difficoltà. La famiglia è anche un grande servizio. E anche la famiglia è un grande servizio. Quindi combinare le due cose per capire qual'è la cosa migliore per la vita. e capire qual'è la cosa migliore per la nostra vita. I Sagnasi sono il nostro guida. Ecco, per questa cosa i Sagnasi sono la nostra guida. E loro danno il loro tempo a tutti. E in questo modo loro sono amici di tutti. E' per questo che il nostro Guru Devashila Prabhupada Lui ci ha dato Sagnasi in modo che noi possiamo diventare utili in questa vita e aiutando tutti quanti. E ci proviamo. E imperfetti come siamo. Però ci proviamo. E questa è la misericordia che abbiamo ricevuto da Bhakti Rasha Gha Shilashilamana. Che è il nostro generale Sagnasi Guru. Lui è anche il Guru Sagnasi Generale di Shilaparopada. E quindi che dire di piccoli Sagnasi come noi. Abbiamo appena cominciato a fare questo servizio di servizio nel renunzato allo della vita. Abbiamo appena cominciato a fare questo servizio nell'ordine renunciato della vita. Ok. Grazie per la vostra buona compagnia. Per la tua compagnia maravigliosa. Grazie a tutti i demoti. Grazie a tutti i demoti. Questa piccola canzone. Questa piccola canzone di Vrindavana ci porta alla Santa Terra di Cris. che è la terra dell'amore questo amore di Vrindavana è diviso in cinque categorie la prima categoria è Shantaras la prima categoria è Shantaras che è una disposizione positiva non mi oppongo non c'è non opposizione tutto favorevole tutto favorevole la successiva è Dasyaras Dasyaras means la Dasyaras vuol dire significa voler cooperare il desiderio di fare qualcosa per fare felice le altre persone questo è veramente un grande servizio la successiva è la amicizia più profonda quella cuore a cuore questo tipo di amicizia si trova fra Krishna e i pastoretti e anche tutti quelli che aiutano Krishna in questa missione che sono i suoi associati intimi anche loro rientrano in questo tipo di realità della Shantaras e poi c'è il vatsalya rasa che è l'amore dei genitori e alla fine c'è il riconoscimento del fatto che uno possa innamorarsi di Dio e quando ti innamori di Dio allora i tuoi problemi sono finiti perché a quel punto ti hai raggiunto il livello più alto della vita però il Madhurya rasa chiamato che è l'amore più confidenziale come Dio ha anche stato spiegato nella storia degli Asciari e ci sono storie speciali che ce lo raccontano dove noi comprendere la grandezza di quelli che hanno innamorato con Dio e nella storia nelle quali noi possiamo capire coloro che si sono innamorati di Dio anche noi speriamo un giorno di essere insieme a loro insieme a quelli che si sono innamorati di Dio però queste sono cose per tevoti estremamente elevati e in questo mondo si conoscono a malapena no it will hardly be known come fa di Dio nobody nobody knows about yes ok sono un po' dei very little no but what is known in this world però quello che è conosciuto in questo mondo è quello che fai per il Signore se lo proteggi se lo servi intimamente se sei parte del suo programma del suo piano se il tuo cuore sente i suoi sentimenti chi è che ha fatto questa bella Brindavanesma very beautiful tanto bella proprio bella so we will give this to our Bulgarian movie maker of the Bhagavad Gita clips e quindi daremo questa villanda alla nostra registra bulgara degli filmati sulla Bhagavad Gita so today our subject is friendship and its necessity quindi l'argomento di oggi è l'amicizia e la sua necessità ovviamente noi pensiamo all'amicizia con Krishna ma dobbiamo pensare anche all'amicizia con gli altri Vaishnavas dobbiamo anche pensare all'amicizia con le altre persone delle persone che in questo mondo sono impegnate a cercare la felicità se noi siamo loro amici dobbiamo cercare ad aiutarli come il famoso detto che dice uno è amico nel momento del bisogno e c'è un altro modo di dirlo che un amico che non ha bisogno di te è effettivamente un amico in other words if somebody wants to be your friend but he doesn't need you e quindi uno che vuole essere tuo amico ma non gli servi non gli servi però lui è comunque tuo buon amico e si preoccupa di te questa è una real amicizia d'altra parte se sei se hai bisogno quindi se hai bisogno sarà comunque un'influenza molto positiva se qualcuno si attiva se qualcuno si attiva è pronta ad aiutarli e quindi è quello che è quando diciamo un amico è amico anche nel momento e soprattutto nel momento è bisogno Krishna is the super 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 friend of everyone quindi Krishna è il super 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 amico di tutti quanti perché lui ci provvede tutto quello che abbiamo bisogno e fa tutto e realizza tutto con così grande amore e nei piccoli nei minimi dettagli e lui la sua amicizia nei nostri confronti ne ha dato prova miliardi di volte è quello che lascia un po' a desiderare è la nostra reciprocazione verso lui the divine friendship of the Vaishnavas is also remarkable allora bisogna anche mettere in evidenza la divina amicizia dei Vaishnavas the devotees they do everything they can i devoti fanno tutto quello che possono they go out of their way loro vanno al di fuori della loro via del loro stile to meet you per incontrarti to invite you per invitarti to engage you in some service per impegnarti in qualche servizio to give you some transcendental food per darti un po' di cibo trascendentale to speak to you per parlarti and to listen to your pains e per ascoltare i tuoi dolori i tuoi problemi and to invite you to have the best association possible e per invitarti ad ottenere la miglior compagnia possibile so the devotees of the Lord even you do not recognize it or you don't are not aware of it they are all your best friends quindi i devoti del Signore anche se non lo riconosci anche se non ne sei consapevole sono i tuoi migliori amici that friendship is proven by their sacrifice they make for you questa amicizia è provata dal sacrificio che loro fanno per te because the devotees they know that you are their eternal brother and friend perché i devoti sanno che tu sei eterno fratello e amico anybody who walks in the street here chiunque cammini adesso per strada I know there is my sister or my brother io lo so che quella è mia sorella e mio fratello magari non ci ho mai parlato sfortunatamente non ho trovato il tempo ma se te ti prendi del tempo per parlare immediatamente capisci che loro stanno cercando la stessa cosa che tu cerchi loro stanno cercando l'amore tu stai cercando l'amore loro cercano la verità e tu stai cercando la verità loro cercano la vita eterna e anche tu cerchi la vita eterna quindi in questo modo tutti stiamo cercando la stessa cosa perché qui di noi non possiamo essere intimi amici è possibile però l'amicizia ha dei sintomi i primi sintomi di un'amicizia è che che te vuoi conoscere il tuo amico conoscere qualcosa del tuo amico non solamente quel come va superficiale e manco te ne interessa di sentire la risposta e un amico è quello che vuol sapere come stai però vuol anche sapere i dolori le pene che tu soffri e un altro sintomo dell'amico è che lui vuole essere sicuro che tu sia cosciente che puoi contare su di lui a questo mondo è molto comune dire in questo mondo è molto facile dire vieni a casa mia la mia casa è la tua casa oppure un altro modo di dire vieni tutte le volte che hai bisogno di me questa dichiarazione dovrebbe significare quello che il cuore veramente sente voi lo sapete che nel mondo materiale non si manifesta perché nel mondo materiale è il mondo dello sfruttamento è per questo motivo che chiunque vive in questo mondo in genere cerca la privacy loro non hanno veramente voglia che tutti vadano a casa loro eccetto in gli ashrams vogliamo che si uniscano che tutti quelli che vogliono imparare di questo tipo di vita si uniscano anche se se l'ashram poi diventa troppo affollato perché c'è troppa gente non c'è problema affittiamo un'altra casa non esiste che un ashram ti dica scusate non vogliamo più membri perché siamo già abbastanza perché l'ashram è in definitiva il posto di Dio quindi riflette l'amicizia che Dio sente nei tuoi confronti e se non lo sai i devoti vengono personalmente ti prendono per mano e ti portano e ti tirano per te e ti dicono vieni stai con noi ma se ti dici io non posso non sono pronto per la vita e devo prendermi cura di un sacco di gente allora i devoti immediatamente dicono no ti dico va bene non importa puoi essere amico di Krishna o membro dell'ashram anche se vivi fuori dell'ashram non ci sono difficoltà la Prabhupada ha preso l'iniziazione quando era agriasta viveva fuori dal Tempio e come potete reagire nelle sue biografie anche dal griasta fece un immenso servizio in altre parole tutti possono partecipare amicizia significa facciamolo insieme a volte insieme fisicamente oppure insieme nello spirito se tu sei la mia famiglia se tu sei il mio amico noi le cose le facciamo insieme se voi sentite in questo modo non vi viene proprio non vi passa nemmeno per la mente di perdere la connessione con amici così meravigliosi dice quanta gente in questo mondo per esempio vuole suicidarsi adesso dice quanta gente in questo momento sta prendendo droghe e mette a rischio la propria famiglia quanta gente in questo mondo soffre di depressione e si dice non so non so perché sono qui non so non so cosa mi sono supposed to do quanta gente in questo momento nel mondo soffre di depressione e pensa non so perché sono qui non so quello che devo fare domanda can we help them li possiamo aiutare answer domanda risposta yes si but for that ma per questo we have to know them noi dobbiamo conoscerli we have to make sure they know we exist dobbiamo essere sicuri che loro sanno che noi esistiamo e che noi sappiamo che loro esistono e come contattarli oggi non è nemmeno così difficile you can make a doctor of the soul whatsapp group voi potete fare un gruppo di whatsapp il dottore dell'anno and you can send sweet messages every day to your whatsapp group e tutti i giorni potete mandare dolci messaggi al vostro gruppo di whatsapp so there's many things you can do ci sono milioni tante cose che potete fare quando volete contattare la gente di questo mondo loro si sentono felici but they are also feeling a little scared però sono anche un po' spaventati they say maybe you just want to meet them to take their money che non è che questo mi vuole incontrare per fregarmi i soldi maybe you just want to meet them to cheat them magari questo mi vuole incontrare perché vuole il mio voto per diventare un politico oggi la cosa che succede più frequentemente è che uno ti contatti perché ti vuol vendere qualcosa e allora mettono come si dice un segno sulla porta nessun venditore niente venditore perché si sono scocciati di tutta questa gente che gli vuole vendere qualcosa nessuno mette un cartello sulla porta basta amici per favore quindi per la gente per la gente che si conosce l'uno con l'altro ci vuole tempo per conoscersi l'uno con l'altro è un sacrificio essere amico essere amico è un sacrificio fare più amici fare spazio nel tuo cuore per ancora più persone è sempre qualche genere di sacrificio però c'è un sacrificio ancora più grosso di tutto ciò che è perderli perdergli amico non sapere dove sono e come stanno i devoti hanno un cuore molto soffice quindi soffrono tanto quando pensano alle sofferenze della gente di questo mondo e per questa ragione loro fanno tutto il possibile per implementare il loro sacrificio che significa come faccio a farmi altri amici e non come Dale Carnegie non ho capito non come il mister Dale Carnegie è come il mister Carnegie che non so ha scritto un famoso libro come fare amici e influenzare le persone è lui che ha scritto questo soggetto ha scritto un libro come farsi degli amici e influenzare il soggetto ma non è quello il modo con il quale i devoti del Signore vogliono fare amici fare amicizie loro vogliono fare amicizie in amore e per amore perché loro amano tutti questo è il sistema il modo con il quale vogliono fare amici e se uno ama tutti I want to give them the best thing I have e se amo tutti voglio dare a loro la miglior cosa che ho I don't want to give them something half one quarter no I want to give them the best thing non gli voglio dare una cosa mezza bella o un quarto bella no gli voglio dare il massimo della cosa bella so what is the best thing I have quindi qual è la cosa migliore che ho I can guarantee you the best thing I have vi garantisco la cosa migliore che ho is called Srila Eci Bhaktivedanta Swami Prabhupada la cosa migliore che ho è Srila Eci Bhaktivedanta Swami Prabhupada I have not anything or anyone more valuable to give to you non ho niente altro e nessun altro di più grande valore di lui e anche se lui è già nel mondo di Krishna nel mondo d'amore di Krishna i suoi devoti sono ancora qui il suo messaggio è ancora qui lui ci ha lasciato anche del cibo per noi lo sapete molto bene e al final di tutte le Vaishnava c'è sempre prasada vi piacerebbe mangiare un po' di prasada oggi oggi è in Shingadev Shaturdasi oggi è Shaturdasi di Nishingadeva è un giorno specialissimo Rada Ramad in questo giorno in questo giorno in questo giorno è apparso Rada Ramad Gorangarada Braciswara è apparso anche Gorangarada Braciswara such a wonderful day oggi è un giorno fantastico è il mio giorno favorito io in questo giorno dovrei essere in Colombia perché è lì dove Gorangarada Braciswara l'ishtadev della missione perché è il luogo il giorno nel quale è apparso Gorangarada Braciswara che è la divinità principale della missione Vrinda e anche l'apparizione di Rada Ramad che è la divinità più popolare nella Gaudiya Sampradaya perché Rada Ramad è ancora in Vindavan questa divinità non è mai che è mai che è mai in Vindavan anche nel tempo dei muslimi e anche perché questa divinità è ancora Vrindavan ed è rimasta Vrindavan anche nei tempi delle persecuzioni musulmane Rada Ramad sono molto piccoli e quindi i devoti stavano scendendo loro perché è andata così che Rada Ramad era molto piccola e quindi i devoti ce l'hanno fatta nasconderla e queste divinità sono scendate per 500 anni senza fail e questa divinità è stata adorata per 500 anni senza nessun attimo di interruzione con una grande opulenza e con uno standard delle patrissime e questa divinità di Rada Ramad è apparsa in questo giorno di Nishinga di Nishinga quindi oggi ci sono tante ragioni importanti che questo sia il giorno favorito dai Nishinga e ovviamente il Signore Nishinga stesso lui è apparsa in questo mondo e ha dato la protezione a tutti i devoti del Signore tutti noi confidiamo nella misericordia di Nishinga perché questo mondo è apparentemente pericolosissimo ma alla fine del giorno alla fine finisce nel Supremo è per questo che i devoti non si preoccupano I don't think oh I will not go there because it is too dangerous I don't will not go there because it's too cold dice a me non mi viene mai in mente di pensare in questo mondo non ci vado perché è pericoloso o in questo non in questo mondo in questo posto non ci vado perché è pericoloso in quest'altro posto non ci vado perché è freddo perché i devoti sanno che poi Krishna aggiusta tutto quanto io per tutti quelli che mi adorano con devozione io gli fornisco quello che gli serve e gli presevo quello che possiamo queste sono le parole di Krishna quindi non c'è da preoccupare insomma crediamo a quello che dice Krishna perché Krishna le ha promesse in the Bhagavad Gita Krishna fa un sacco di promesse Arjuna you tell everybody dillo a tutti quanti il mio devoto non sarà mai distrutto so why is he asking Arjuna to say this e perché Krishna chiede ad Arjuna di dire questa cosa perché la risposta la risposta è che qualche volta Krishna non mantiene la parola d'arte ma quando il devoto di Krishna declares qualcosa che deve essere mantenuto Krishna però quando il devoto di Krishna fa una dichiarazione allora ci pensa Krishna a fare in modo che questa dichiarazione sia protetta mantenuta però quando si tratta di proteggere un devoto Krishna può anche rompere la sua promessa però Krishna va anche contro i suoi impegni rompe la sua promessa e ci sono esempi di questo quindi Krishna vuole essere solamente che siamo sicuri che nessuno può forget o become confused about questo che nessuno si dimentichi di questo o rimanga confuso a proposito di questo che Krishna proteggerà il suo devoto e questa è la sua meravigliosa caratteristica che lui rivela attraverso i suoi devoti quindi se avete qualsiasi problema della vita se non sapete qual è il vostro futuro e se siete spaventati da qualcosa then please connect with Krishna connettetevi con Krishna perché Krishna promessa che i suoi devoti saranno sempre protetti anche se siete deboli Krishna è forte anche se siete poveri Krishna è ricco anche se siete vecchi Krishna è eternamente giovane anche se siete ignoranza Krishna sa tutto se siete con Krishna siete sempre a posto non preoccupate non abbiate paura e non abbiate dubbi a riguardo di questo semplicemente accettate Krishna sia il Signore del vostro cuore perché lui è effettivamente il Signore della creazione non ci sono altri Signori della creazione non c'è proprio competizione non c'è 500 o 100 persone che dicono io ho 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 non è che ci sono 500 o 100 persone ah io sono dio no lui non è dio sono io dio no nessuno dice io sono dio ah some people they joke si c'è qualcuno che lo dice ma scherzano they say we are all god dicono che siamo tutti dio però se io gli chiedo parli linguaggio che no no forget god speaks all the languages so it's very easy to defeat somebody who when he says i'm god but but i mean serious claims that somebody is supposed to be god there's no competition god has many many names god has many aspects simultaneously god can also not be understood he cannot be limited ah no dio non può essere capito dio non può essere limitato i vedas i vedas come per esempio la ishopani shard dicono che Dio è ovunque e anche simultaneamente da nessuna parte he's in your heart e nel popore and he's also not to be found anywhere e anche introvabile da nessun da lì è il più vicino a te e il più lontano da tutti quanti now the question can you explain that e ora la domanda è ma ce la puoi spiegare questa no no so then why you speak about it because I love it I love it that I also love that I cannot understand it I don't want to understand God but I want to love that person but he created you but I want to meet that person I want to meet that person and and of them with their own creativity and free will it is unbelievable and you and you also created the flowers and you have created the fruits and the vegetables and the sun 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 you have created you have created you can do anything you want you can do anything you want I am your servant if you want you can make me your friend but but that's up to you I cannot claim friendship with the Lord this is very a ridiculous claim e sarebbe una pretesa ridicola but I can claim I want to serve you però io posso pretendere di servire so any friendship starts with service quindi ogni amicizia comincia col servire a friendship is headed down from a higher to a lower un un amico può va dall'alto from a higher position to a lower dalla più alta posizione alla più bassa but when the higher makes friendship with the lower then he is lifting the lower up to the higher ah ecco lo capito e quando il più alto fa amicizia col più basso allora lui sta elevando il basso verso l'alto because between real friends there is no possibility of hierarchical ranks perché fra gli amici non c'è la possibilità di fare categorie di alto e di basso hierarchical ranks they belong to the world of mental concorso queste cose cioè le queste cose hanno a che vedere col mondo della speculazione mentale bureaucratic institutions con le istituzioni burocratiche for their management per cose da manager but father is so superior over his son però il padre è così superiore al suo figlio but he takes the son on his shoulder and plays horse eppure anche se il padre è così superiore al figlio se lo prende sulle spalle fa il cavallino e fa il cavallo so this is what love is and that is what we are looking for e è questo che stiamo cercando we are not looking for formal recognition noi non stiamo cercando delle riconoscimenti formali for rubber stamping or formal hierarchies where you can be submissive to the superior and you mistreat the people under you oppure delle posizioni tipo che te sei sottopesso al signore e tratti male la gente che ti sta intorno that we do not want no, noi questa roba non la vogliamo that is too boring è proprio noioso we have to get something real vogliamo qualcosa di real something sweet qualcosa di dolce and that exists e questo esiste that's God è Dio beauty, sweetness and love bellezza, dolcezza e amore that is God questo è Dio non è ipocrisia non è diplomacy non è diplomazia non è corruzione no, real thing queste sono cose reali heart to heart relationship è relazione dal cuore a cuore e you e tu have such a sweet heart e voi avete un cuore dolce that's why you are here è per questo che siete qua because your sweet heart perché il vostro dolce cuore is looking for reciprocation perché il vostro dolce cuore sta cercando una reciprocation all hearts are looking for reciprocation tutti i cuori cercano reciprocation conversation means reciprocation conversazione significa reciprocation buongiorno buongiorno no 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 buongiorno means buongiorno buongiorno significa buongiorno if there is no response se non c'è risposta è verità è terribile so just for greeting e anche solamente nel salutare what to speak about reciprocating e quindi che dire della reciprocazione to your feelings della reciprocazione ai tuoi sentimenti to your needs ai tuoi bisogni to your poetry alla tua poesia all the beautiful things in life alla tutte le belle cose della vita la mamma mette sempre il cibo sulla tavola ma quando il bambino dice eh vabbè è il dovere della mamma noi non abbiamo dovere verso di lei e te sei proprio un ingrato eh how is that a mother has the duty to cook for you dice che storia è che la mamma abbia ha il dovere di cucinare per te do you pay her l'hai pagata what is this che storia è questa so if you have no gratefulness towards God quindi se non hai gratitudine verso Dio then you become very cold allora diventi freddo very cold molto freddo everybody will want to be far away from you e diventi uno che tutti ti vogliono stare lontano even the dog you have wants to run away e anche i non ho capito anche i cani ti vogliono tenere lontano che se ne scappano quindi noi dobbiamo superare questa freddezza della non gratitudine di non gratitudine c'è Tanya Mahaprabhu teaches to us gratefulness e c'è Tanya Mahaprabhu ci insegna la gratitudine grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti